In questi 4-5 giorni abbiamo cercato di farle nella miglior qualità possibile, nella miglior gruppo, da conoscersi bene, quali sono le proprie caratteristiche, le proprie qualità. Allo stesso tempo bisogna tenere i piedi per terra perché è un campionato tosto e dobbiamo volere le cose in una certa maniera, però c'è gente con qualità e allo stesso tempo il mister ci dirà tutto ciò che ci serve per poter far bene in campo e andare in campo con le idee giuste. Primo tempo meglio, come ha detto anche il mister, si vedevano già un po' di Cheloviso comunque, il pallone alla fine arrivava sempre nei suoi piedi. Sì, ma sia il mister e il ruolo, anche per le mie caratteristiche, la mia personalità, voglio cercare di toccare più palloni possibili. Abbiamo cercato di fare, come ho detto, quelle due o tre nozioni che il mister ci ha dato, però allo stesso tempo, come ho detto, bisogna avere calma, bisogna avere pazienza e grande umiltà nella crescita di tutta la squadra. Grazie.